Un ragazzo come tanti, un ragazzo come pochi, definito da tanti come un bravo ragazzo. Finalmente hai trovato quell'ora libera per poter studiare. Ma non è facile come sembra. Sai già quale arma prendere? E' la tua prediletta con quest'avversario, elastica come una molla, roteante come un tornado, veloce come una frusta. Tu aspetti il momento giusto per colpire. Verifichi che tutto sia a posto. Ti concentri al massimo finché non arriva il momento. Ed è proprio in questi momenti che liberi tutti i tuoi antenati. L'ultimo samurai. Iscriviti al canale o ti piglio frustate.